E con noi il vincitore della 32esima edizione del trofeo dell'Unione dei Circoli Sportivi Sloveni in Italia, Emanuele Boaro. Emanuele quindi grande vittoria, terza consecutiva della Zalf Desiree della Fior dopo Marco Bandiera, Simone Ponzi, tu sul gradino più alto del podio. Cosa è stato decisivo per la tua vittoria di oggi qui a Longera? Ma non ci credevo di arrivare al primo traguardo. Avevo il numero uno e scaramanzia dal primo anno dilettante e sono riuscito a vincere la prima corsa, quindi ci speravo. Sono partito all'ultimo giro, sono entrato sul gruppetto che era davanti e ci ho creduto fino alla fine e ho provato e sono riuscito ad arrivare davanti. Quindi la Zalf si conferma la squadra migliore del trofeo di Longera? Eh, siamo a fronte la tripleta e speriamo magari di riuscire a fare per settimana ancora un bel risultato. Ho una squadra forte e quindi siamo consapevoli di poter far bene. E quali sono i tuoi obiettivi per il futuro? Ma quest'anno ci sono anche gli europei e i mondialini d'Italia, speriamo di riuscire a entrare nelle rose e poi vedremo. Un pensiero, il professionismo? Eh, speriamo. Quest'anno è un anno importante per me, quindi voglio fare più che bene, quindi speriamo bene. Grazie a noi.